Nel 1992 l'ONU adotta la Convenzione sulla diversità biologica, un trattato internazionale che ha come scopo la tutela della biodiversità. Tutti ne parlano, tutti sono contenti, che bella la natura e poco più. Arriviamo al 2002, dove durante il summit della Terra sempre l'ONU si impegna a ridurre significativamente la perdita di biodiversità entro il 2010. Tutti fanno buoni propositi e tutti guardano al 2010, magico anno in cui tutto si risolverà. Un po' come Capodanno, insomma. Mangierò più verdure, andrò a correre tutte le mattine, smetterò di rubare le caramelle ai bambini, così così, insomma. Arriva il 2010 e siamo messi male. Ed è a questo punto che l'ONU cerca di salvare il salvabile e crea l'anno della biodiversità, il 2010 appunto, con tanto di logo e francobolli commemorativi. Finisce il 2010. Finisce il 2010. E allora viene istituita la decade della biodiversità, per cercare di raggiungere sempre gli stessi obiettivi, però vent'anni dopo. Ora, questa meravigliosa decade scade nel 2020. Mancano pochi mesi alla fine dell'anno e... Diciamo che abbiamo avuto altro a cui pensare. Insomma, sono 30 anni che nel bene o nel male le commissioni si riempiono la bocca di questa parola. Biodiversità. Biodiversità è una parola bella, un bel suono. Biodiversità ti fa pensare alla natura, ai fiorellini, alle farfalle, cose così, insomma. Ma che cos'è esattamente la biodiversità? E soprattutto a noi della biodiversità. Biodiversità, che ce ne frega! Sale a tutti, io sono Elvira e oggi parleremo, se ancora non l'aveste capito, di biodiversità. Biodiversità è un termine molto ampio che può avere, a seconda del contesto, accezioni differenti. Letteralmente biodiversità vuol dire diversità della vita, in tutte le sue forme. Può indicare l'abbondanza di specie in un ecosistema. In questo caso possiamo dire che qui c'è più diversità di qui. Ma può esserci biodiversità anche all'interno della stessa specie. In questa foto vediamo una bella famigliuola di Homo sapiens durante una cena. C'è poca biodiversità in questa stanza, perché dal punto di vista genetico gli individui sono molto simili fra loro, sono tutti parenti. Mentre qui invece vediamo sempre un gruppo di Homo sapiens, ma questa volta la diversità genetica è molto più alta. Quindi la biodiversità può essere vista all'interno di una sola specie a livello genetico e come diversità di specie all'interno di un ecosistema. Ma possiamo vederla da un altro punto di vista ancora più ampio, come varietà di habitat su questo pianeta. Immaginate se tutta la Terra fosse ricoperta di prato. Bellissimo, per carità, però un po' noioso. Invece noi abbiamo prati, boschi, deserti, paludi, ambienti del tutto diversi l'uno dall'altro. Ed anche in mare è così. Abbiamo barriere coralline, praterie di Posidonia, il mare aperto, i camini idrotermali nelle profondità degli abissi. Ma sono solo alcuni. Ed è tutta questa diversità insieme che rende il nostro pianeta così bello e ricco. Si pensa che nella storia della Terra due miliardi di specie abbiano visto la luce. Questa ovviamente è una stima, non è qualcosa che possiamo sapere con certezza. E la cosa pazzesca è che non sappiamo nemmeno quante specie ci siano oggi, in questo momento, sulla Terra. Le stime sono molto varie. C'è chi parla di 10 milioni, chi parla di 100 milioni di specie. Non lo sappiamo. Di queste ne abbiamo descritte soltanto 1 milione e 700. Sembrano tante, ma è solo la punta dell'iceberg. La verità è che noi conosciamo ancora così poco il nostro pianeta. Ogni anno si scoprono centinaia di nuove specie. E infatti se vedete questo video fra sei mesi, probabilmente quello che vi ho detto sarà superato già. Conosciamo così poco che è anche difficile capire quante specie si stiano estinguendo. Semplicemente perché la maggior parte non le abbiamo mai scoperte. Perché tutti parlano di tutelare questa biodiversità? E perché è così importante che ci siano tante specie in natura? Tutelare la biodiversità non è soltanto giusto da un punto di vista filosofico o morale. Tutelare la biodiversità ci serve. Noi umani dipendiamo completamente da ciò che ci circonda. Dall'aria che respiriamo al cibo che abbiamo nel piatto, il pianeta con la sua biodiversità ci fornisce quelli che potremmo chiamare dei servizi. Se ci mettiamo a pescare a strascico, danneggiamo il fondale, le spugne, i coralli, le alghe, tutto ciò che troviamo. Questo crea un effetto a cascata che impoverisce l'ambiente. E la conseguenza è che ci saranno meno pesci da pescare nella stagione successiva. È un effetto domino insomma e bisogna sempre ricordare che le risorse che ci interessano sono garantite da un insieme di interazioni molto complesso e se vogliamo continuare a usufruirne, dobbiamo tutelare l'ecosistema nel suo insieme. Inoltre la biodiversità funziona come una sorta di assicurazione. Un ambiente ricco di biodiversità è più stabile. Questo vuol dire che è più facile che resista ai cambiamenti o che si riprenda dopo eventi catastrofici. Questo perché ogni specie reagisce ai cambiamenti in modo diverso. Questo pesce ad esempio può essere molto vulnerabile all'aumento di temperatura, ma quest'altro invece no. Però questo è immune da una malattia che causa la morte del primo pesce. E magari quest'altro pesce qui riesce a sopravvivere in un ambiente inquinato meglio di tutti gli altri. Avere specie diverse ci garantisce che, bene o male, qualche pesce ce lo ritroveremo sempre. Non sono un'esperta di economia, ma se avessi un grande capitale da investire non comprerei mai tutte le azioni della stessa compagnia, li dividerei. Così anche se una fallisce avrei sempre le altre azioni a sostenermi. A quanto pare questa cosa si chiama diversificazione nel portafoglio. E lo stesso discorso avviene per la biodiversità. E ricordiamo che ogni essere vivente è sempre strettamente connesso con tutti gli altri. Quindi se si danneggia qualcosa, si creano casini. In conclusione vorrei ricordare che la diversità ci protegge, ma non fa miracoli. Se continuiamo a pescare senza criterio, a inquinare, a emettere sempre più gas serra nell'atmosfera, andremo via via a intaccare questa biodiversità. E diminuiremo la capacità della natura di riprendersi da sola. Più interferiamo con l'ambiente, più la biodiversità cala. E minore la biodiversità, più fragile è l'ambiente. È un circolo vizioso da cui faremmo meglio a uscire il prima possibile. Lo ripeto ancora una volta. La biodiversità ci serve. Non voglio dire che non si sia fatto nulla in questi anni, non sarebbe nemmeno vero. Però è troppo poco. È una cosa buona che si crei con sapevolezza. E mi vanno bene i francobolli commemorativi, mi va bene anche la giornata della biodiversità. Ma non basta, non è abbastanza. Dobbiamo darci una mossa e ce la dobbiamo dare subito. Io spero davvero che il mio lavoro, anche se nel piccolo, insieme a tutti quelli che fanno divulgazione, porti a cambiare qualcosa. Grazie.